e l'amici il problema della parkside è che non è tanto facile trovare gli accessori nel senso che si possono ordinare online ma prezzi molto maggiori rispetto a quelli che troveremo al supermercato qui abbiamo 5 r 99 gli accessori per il trapano a avvitatore mola abrasiva set spazzole abrasive disco abrasivo lamellare quindi sono un prezzo che certamente può convenire poi abbiamo 2 r 99 5 6 pezzi di punte per acciaio o pietra qui come vedete abbiamo le punte per legno qui abbiamo le punte per acciaio e qui abbiamo le punte per muro 2 r 99 è un prezzo veramente basso poi abbiamo sempre grazie e chiodi per pistola sparapunti elettrica a 3 euro e 99 un prezzo veramente basso grazie tipo 55 2 mila 3 mila pezzi chiodi tipo 47 3 mila pezzi poi abbiamo il set di lame per seghetto a pendolo a 3 euro e 99 abbiamo per legno per plastica o per metallo quindi un prezzo veramente molto molto conveniente poi abbiamo il set di carta abrasiva per levigatrice smedigliatrice a 2 ore 49 poi ancora guida di bloccaggio di taglio a 11 euro e 99 lunghezza di serraggio da 0 a 100 centimetri angolo di taglio tra 0 e 20 gr per comuni seghetti a pendolo prese seghe circolari in alunio e in alunio quindi molto leggero poi abbiamo adattatore usb per la batteria con luce letta e per utilizzare le batterie della serie x 20 volt team come power bank ideale per ricaricare smartphone tablet e macchine fotografiche a due porte usb da 2,4 ampere ciascuno una pratica clip per la cintura e la funzione a prebottiglie poi abbiamo il set di accessori per smedigliatrice angolare 4 ore e 99 a scelta tra seta di molde da taglio 12 pezzi spazzola a tazza da 75 mm seta di dischi abrasivi a strappo sette pezzi mole per smedigliatrice smedigliatura scusate tre pezzi seta di molde da taglio diamantate cinque pezzi poi abbiamo ancora il set di bitta e chiavi a bussola a 14 euro e 99 chi è riuscito a prenderli quando era in offerta 9 99 ha fatto un buon affare poi abbiamo set di chiavi a cricchetto a 11 euro e 99 ancora il righello in acciaio oppure il set di falsa squadra e marcatore a rondine a 4 euro e 99 poi abbiamo la lama per sega circolare in offerta al 50% 5 euro e 99 come vedete c'è la scelta tra la lama per per legno scusate quella quella per per legno appunto è questa poi quella per acciaio per ferro per metallo e quella per l'atterizio poi ancora abbiamo un set di fascette ferma cavo a 3 euro e 99 queste vabbè poi abbiamo un portapunte magnetico o set adattatori quadrati uno o tre pezzi gli adattatori sono questi infine abbiamo delle viti che costano veramente veramente poco perché costano 3 ore 99 69 sono di mano